Caro bollette, tariffe più che raddoppiate per gli utenti della Metasport, agli utenti del Centro Sportivo di San Rufo sono state inviate le nuove tariffe in vigore a partire da questo mese di marzo. Tariffe che sono aumentate del 127% per chi risiede in alcuni comuni del Vallo di Diano, mentre per sei comuni Caggiano, Polla, San Pietro Altanagro, Sanza, Monte San Giacomo e Sant'Arsenio resterebbero confermate le tariffe 2021 in quanto, secondo quanto riportato nelle comunicazioni di Metasport, avrebbero versato regolarmente il contributo di solidarietà previsto per il prosieguo dell'attività sportiva presso il Centro. Secondo quanto riportato nella comunicazione, l'aumento del costo delle energie elettriche e del metano ha imposto un ricalcolo delle tariffe che non sarà applicato laddove provvedano le amministrazioni comunali a versare il contributo calcolato per ciascun comune in base al numero di utenti residenti nel comune stesso che frequentano l'impianto sportivo come contributo per le bollette energetiche dovute dal centro sportivo. Per ogni utente dell'impianto sportivo residente in un determinato comune, il comune deve versare un contributo per le spese energetiche in base alla percentuale calcolata sul totale delle persone che usufruiscono dei servizi offerti dal centro sportivo. Il caro bollette che sta colpendo duramente famiglie, imprese, istituzioni pubbliche e private incide quindi pesantemente anche sulle attività di Metasport che per mantenere in vita l'impianto ha deciso di procedere con un aumento esponenziale delle tariffe a carico degli utenti che usufruiscono dell'impianto, laddove le amministrazioni comunali non provvedono a versare le quote di solidarietà previste utilizzando fondi pubblici dei comuni. Ed ecco quindi che gli utenti del centro sportivo si sono visti arrivare nei giorni scorsi sui propri telefonini le nuove tariffe e l'elenco dei comuni che avendo versato il contributo di solidarietà consentiranno agli stessi di mantenere le tariffe dello scorso anno. Gli aumenti previsti vedono la corsa in pista passare da 60 euro, comprendendo due entrate, a 136 euro. Dieci ingressi in piscina passano da 75 euro a 170 euro, l'ingresso singolo da 10 euro a 22 euro. Il pacchetto per chi vuole tornare a frequentare il centro passa da 59 euro a 134 euro e così via. Gli aumenti del costo dell'energia quindi stanno producendo un aumento generale dei costi della vita rendendo sempre più oneroso anche poter usufruire di servizi che dovrebbero essere fondamentali per la salute. Aumenti che va evidenziato e sottolineato non si registrano solo nelle famiglie ma come è logico anche per i comuni e gli enti pubblici in generale e che con le poche risorse economiche a disposizione devono già far fronte al caro di energia nei propri comuni.